Ok ciao ragazzi da Magiboy, oggi vi presento un gioco e vi darò anche la spiegazione. Questo è uno dei miei effetti preferiti e lo chiamato diabolico. Guardate attentamente perché ha dell'incredibile. Un dado normalissimo, un dado a regolare, potete farlo imprestare tranquillamente, un mazzo di carte. Cominciamo a dare una biscottina per farla di che tutto è regolare. Lo scordiamo tranquillamente e non lo guardate attentamente. Lo lasciatelo qui e non avrà più toccato. Qui un altro mazzo di carte, per regolare, e anche questo gli diamo una mescolazione. Questo è importante, nessun ottimo. Prendiamo una carta a caso, questa la lasciamo qui. Questa sarà la carta scelta a caso. Il dado indicherà il numero. 5. Togliamo 5 carte. 1, 2, 3, 4. Questa è la quinta carta. Beh, non è un mio racconto. La spiegazione. Tenetevi pronti ragazzi perché ha dell'incredibile. Allora, come funziona il tempo.